Ed è partita questa prima batteria, è 35 mila, sono 18 gli atleti in partenza, ricordiamo che passano in turno le prime serie di ogni batteria, siamo a meno 24, adesso siamo a meno 23, e noi stiamo mirando in prima posizione a fare l'altra dura, meno 22, ancora fletta Basterini-Vinaldo, fletta del Cassano ancora a fare l'andatura, quando al passaggio siamo ai meno 21, ammolizione numero 19 c'è Federico ed è Campana quindi si entra nel gioco in questa prima semifinale per il 5.000 che è arrivata al passaggio come sarà la prima eliminazione ricordiamo che saranno 6 atleti che poi accederanno alla finale intanto si arriva con la prima eliminazione con il segno ed è il 246 il transor Filippo per Manazzi Campana Campana di Milano quindi al passaggio sarà l'eliminazione l'eliminazione di Milano il 27 ed è il 341 di Milano e la terra va a riempirarsi prima la posizione per il numero 56 di Pascheri di Milano e vedete Camana non vi chiedi a fare la matura perché si si trova la parabilia al passaggio sarà eliminazione per il gruppo eliminazione al passaggio siamo i 14 in Campana in Campana quindi alla passaggio nuovamente e alla passaggio eliminazione e il 27 Osella Nicolò per narsi Osella Nicolò per narsi il 24 25 per un in alto prima la mozione e anche il 222 di Keri Giordano ricevono una prima la mozione un passaggio siamo alla fine di mozione Nelle 47 Gostantini di Ucana Fermarsi siamo arrivati agli ultimi 10 giri di gara di Campana dell'arena della Natura e alla passaggio sarà eliminazione del limano 5 5 56 per un passaggio di Rimano Fermarsi eliminato vai Fede seconda la mozione la mozione la mozione 495 di Rimano i sui la campana mi rimane 9 atleti, ricordiamo che rimanono 6 che accederanno alla finale, sarà l'eliminazione. 8 atleti, ricordiamo che rimanono 6 che accederanno alla finale, sarà l'eliminazione. 8 atleti, ricordiamo che rimanono 6 che accederanno alla finale, sarà l'eliminazione. 8 atleti, ricordiamo che rimanono 6 che accederanno alla finale, sarà l'eliminazione. 187, scusate, per il massimo 187, Rossetto, Pantana con il 1-2. Quindi siamo all'ultima eliminazione, alla passaggio dell'ultima eliminazione. Ed è l'eliminazione. E' l'eliminazione. Quindi si ispirata adesso per l'ultimo giro. Allora, tra la parola. Allora, quindi dopo. Capito il secondo giro per questa prima... E' l'eliminazione. Dai, Garla. Dai, Garla. Allora, vediamo qua. 25 anni in campana. Non ne lo vede. E poi siamo con la eliminazione. Dai, Garla. Dai, Garla. Chiuditemi. 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 la nuova versione è per il numero 170, maggiori e per il numero 25, la nuova versione è per il numero 170, maggiori e 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 per Poi Ponzia, poi Ponzia, poi Ponzia. Ponzia, poi Ponzia! Ponzia, poi Ponzia, poi Ponzia. Ponzia, poi Ponzia! 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 Ponzia, poi Ponzia, poi Ponzia! Ponzia, poi Ponzia! Ponzia, poi Ponzia! Ponzia, poi Ponzia! Ponzia, poi Ponzia, poi Ponzia! Ponzia! Ponzia, poi 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 Ponzia! Ponzia! Ponzia, poi Ponzia! Ponzia, poi Ponzia! 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 Ponzia, poi Ponzia!